Ben ritrovati a voi tutti per questo nuovo numero di Dolomiti Turismo, il freddo è arrivato, le temperature sono scese, si inizia a sparare in quota e noi quest'oggi ospitiamo e la ringraziamo per essere arrivati direttamente da Araba, la seconda località turistica per presenze delle Dolomiti Bellunesi, Michela Lezzuo, presidente di Araba Fodomoturismo, buongiorno Michela. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Araba si prepara quindi alla stagione invernale, un po' nella qualità sui genis perché gira molto nel turismo con il giro del Sella Ronda e quindi grande turismo specie tedesco e internazionale. Come sarà questa stagione secondo le indicazioni che avete oggi? Allora, si prospetta molto bene, già dall'apertura il 5 di dicembre abbiamo già il pienone consolidato con il pubblico sloveno, con il famoso anche la promozione, il super premier che attira sempre parecchie persone ormai e bene o male copre tutta la stagione. Abbiamo già prenotazioni, praticamente i piani camere, i giochi sono stati fatti e quindi mi sembra di capire che la pianificazione promette bene e aspettiamo che anche la natura faccia un po' il suo dovere. Sono partita proprio da Araba e tutti i canoni erano operativi stamattina. Bene, e quindi avete chiuso peraltro la stagione estiva in ottobre, di fatto quindi c'è la destagionalizzazione, nel senso che appunto già con l'inizio di dicembre con l'apertura Sella Ronda sarete già operativi e quindi si va verso sempre più le stagioni più lunghe, però c'è un problema personale forse? Allora, diciamo che forse nel tutto il contesto, il comparto diciamo montano, Araba è quella che la destagionalizzazione l'ha sofferta sempre un po' meno. Ricordo le aperture a maggio dei nostri alberghi Giacola Pentecoste che grazie a quel tempo il turismo sulla moto permetteva e quindi Araba da maggio a metà di ottobre, 10 ottobre ha sempre avuto una certa affluenza, certo non parliamo di grandi affluenze, però il movimento c'è sempre stato grazie non solo al Sella Ronda in questo senso ma alla 48 delle Dolomiti, la 48 delle Dolomiti è un'attrazione non appena si conclude il mondo sci in primavera col passaggio delle due ruote in generale, quindi questo bisogna dire, poi consapevole anche della quota che abbiamo perché siamo a 1600 metri da Rissi e Sale, quindi la destagionalizzazione sì, però abbiamo certamente il limite della quota che a ottobre inoltratto o a un maggio anticipato può portare le sue conseguenze. Conseguenze, il caro prezzi, lezuo, come gli ski pass aumentano, pare anche la settimana bianca in generale, no? Si parla quasi di 1500 euro, è un limite questo oppure il turista si adatta a questo caro prezzi facendo qualche sacrificio magari in più? Credo che abbiamo un turismo che si adatti ma un turismo che si selezioni, il mondo sci è un mondo che sappiamo benissimo una vacanza che richiede una bella, un'importante risorsa economica però bisogna anche dire che è molto limitato all'arco alpino quindi è targettizzato ma fortunatamente non è paragonabile al mondo coste-mare mondiale e quindi bene o male il mondo sci fortunatamente non è, non potrei ripeto definire che si sacrifica una spesa maggiore l'accetta ma magari si seleziona. Allora spesa maggiore, proprio qualche mese fa aveva un ospite qui in questi studio, un turismo aperetto il quale rimarcava che forse per il tipo di target alto spendente che aveva, ovvero alberghi a 4-5 stelle Arabia era un po' povero in questo senso rispetto a Cortina. Serve quindi qualche struttura alberghiera di lusso per il pubblico anche di cui lei ci parlava che probabilmente è il target di Arabia. Certamente fa parte di una coerenza imprenditoriale anche futura, di una proiezione futura questa. È vero, il mondo sci porta un segmento alto di clientela e a questo senso bisogna crescere come offerta ricettiva ma anche come offerta di servizi. Rabba porta 3.000 posti letto, ha una, diciamo, conta un 400.000 presenze l'anno quindi ci dicono dati di una buona occupazione per i letti che abbiamo però avrebbe tutte le caratteristiche di poter fare quel salto in più e incrementare proprio il numero di posti letto contenuto in qualità. In qualità anche grazie alle grandi catene come avviene anche a Cortina acquisizioni da parte anche di gruppi internazionali oppure rimanere con l'albergo di famiglia aumentando magari i servizi. Qui è anche, credo, difficile perché comporterebbe grandi investimenti avere uno o due stelle in più. Allora, io credo che, viste le dimensioni e le caratteristiche di Rabba, non per essere tradizionalista ma credo che la crescita delle strutture esistenti in termini di qualità ma per noi sarebbe forse la cosa migliore più che non auspicare l'arrivo di una grande catena alberghiera. Questo penso possa essere anche lo sviluppo che la gente della mia valle potrebbe auspicare come proprio crescita professionale. L'arrivo di una catena alberghiera potrebbe far pensare a un grande incremento magari di posti letto in un'unica struttura dove forse non aiuta la magia della nostra valle, del nostro paese. Penso piuttosto che un incremento, una miglioria nelle strutture esistenti e anche la creazione di qualche servizio in più proprio a livello di paese. Servizi interne, negozi, ristoranti. È una scelta ristorativa forse un po' più ricca e anche quelle attività che non devono essere enormi ma che danno magari migliorano la permanenza del turista in loco. È vero che i nostri turisti sempre più amano fare attività Lo sci è costoso e quindi si vuole sciare dalla mattina alla sera anche perché si fa una settimana all'anno, non si fanno tre settimane quindi deve essere sfruttata nel suo massimo quindi non è facile dare quei servizi integrativi a una vacanza in bici a una vacanza sullo sci perché occupano gran parte del loro tempo deve essere ben calibrata però per dare un valore alla permanenza proprio bisogna, la nostra vale necessita di servizi, necessita. Ci parlava di 3.000 posti letto, secondo lei a quanti potrebbe arrivare a Rabba? Quale sarebbe il numero corrispondente a una sostenibilità turistica? Per non andare in overtourism... Bello questo argomento, allora rispondo alla prima domanda l'ideale sarebbero 1.500 posti letto in più per poter dare ossigeno sufficiente a servizi collaterali però facciamo conto noi con la morfologia del territorio dove ahimè abbiamo piste ovunque buonissimo da un lato perché noi abbiamo skin-ski out cioè dove costruire questi alberghi esattamente e quindi io credo che dall'ideale al reale penso che siamo a metà penso che 5-700 posti letto potremmo pensare di farli proprio a livello di realtà urbanistica l'ideale sarebbero oltre i 4.000 posti letto e quindi grandi investimenti serve anche il personale però e dove li troviamo e soprattutto dove li mettiamo a dormire visto che comunque i prezzi delle case sono credo non proprio abbordabili per una famiglia di medio reddito si parla di 10.000 euro al metro anche ad Arabba certamente, questi sono i dati e in tutte le quattro valli del Sella è la più economica quindi i nostri colleghi oltre valle hanno questo problema ancora più amplificato questo è un problema, è un problema che a parer mio bisogna affrontare con le amministrazioni comunali trovando delle soluzioni trovando delle soluzioni e quindi anche il pubblico? coinvolgendo anche il pubblico? per cercare e creare degli alloggi decorosi agli stagionali per forze cose bisogna coinvolgere l'amministrazione comunale per cercare delle soluzioni perché non sempre è possibile pensare a la casa non utilizzato da ristrutturare e se facciamo sì che ogni albergo deve cercare la soluzione probabilmente non si fanno delle cose ad hoc ma io penso che in questo senso bisognerebbe proprio trovare una soluzione seduti con l'amministrazione comunale perché è un problema che riguarda tutti un ultimo tema a proposito dell'amministrazione comunale il suo, il logo, Arabafodom Dolomites va bene o bisogna cambiarlo? come mi sembra che abbia proposto l'amministrazione comunale allora il mio consiglio del parere è che non bisogna cambiarlo noi l'avevamo fatto, proprio creato nel 2008 e aveva anche una sua motivazione così come era nato a quel tempo Dolomiti Super Six ci aveva identificato come zona high, alta ed era questa con la punta slanciata dinamica, di colore rosso voluto proprio per essere in sintonia con tutte le nostre valli attorno al Sella perché è quello per noi l'ossigeno importante e quindi ha avuto un bel appeal lo dimostra proprio anche a livello grafico è stato diciamo un logo a parer mio alzeccato porta alla dicitura Fodom Dolomites perché Fodom è la nostra storia è la nostra identità ed è su quella che a parer mio dobbiamo considerarla un valore aggiunto da un punto di vista turistico ma è la storia il brand è una cosa commerciale e negli anni non potrei dire che questo logo non sia stato accattivante anzi possiamo pensare a un restyling grafico se vogliamo ma a parer mio la sostanza dovrebbe rimanere quella quindi anche con Dolomites anzi sempre più io posso dire siccome vivo anche direttamente il turismo perché essendo operatrice lo vivo posso dire che sempre più ci stiamo internazionalizzando fortunatamente Arabia a livello statistico è consolidata su cinque mercati da oltre vent'anni ed è uno zoccolo importante non siamo monomercato abbiamo cinque mercati negli anni che ci portiamo sempre dietro sono i cinque mercati il mercato nazionale Germania Inghilterra Cecoslovacchia e Slovenia e questi cinque mercati sono sempre rimasti consolidati negli ultimi anni ha incrementato le presenze l'Olanda i paesi scandinavi quindi noi abbiamo una base molto importante e anche diversificata però da post-covid e penso anche grazie all'azione di Dolomiti Superski con Icon Pass vediamo tanta presenza americana certo l'americano ci conosce come Dolomiti Dolomiti deve essere il brand del futuro e poi a scalare a rabba marmolada perché all'interno delle Dolomiti diventa la destinazione il turismo internazionale viene in Dolomiti insomma è questo, occhio satellitare se vogliamo guardare al futuro lo dobbiamo avere e poi all'interno di Dolomiti a rabba marmolada penso che possa essere un brand che non può non tradire e questo sarebbe un altro tema ma purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione ma ne riparleremo se è d'accordo in futuro perché appunto c'è questo tema a rabba marmolada intanto ringraziamo davvero Michele Lezzuo Presidente di Araba Fodom Turismo grazie e buon lavoro a voi tutti nella località Fodoma grazie a te Claudio dell'invito, grazie e ne ringrazio Simone Tollotta alla regia a voi tutti per la gentile visione l'appuntamento è rinnovato la settimana prossima grazie a tutti Grazie a tutti.